Radio Cusano TV Italia Ben ritrovati amici tre spettatori a questo nuovo appuntamento con Respubblica su Radio Cusano TV Italia Matteo Torrioli con voi, Matteo Massetti in regia, andremo ancora una volta a cercare di capire in che paese viviamo, il nostro paese è l'Italia e quest'oggi vorremmo parlare di stereotipi che sono stati smentiti non solo di quello, parleremo anche di ambiente ma vi ricordate quando ci fu tutta la fuga di persone dalla Lombardia verso il sud all'inizio del lockdown quando l'emergenza sanitaria esplose in Lombardia e tutti dicevano, e chi non lo diceva forse lo pensava chissà cosa accadrà quando lo stesso accadrà si verificherà anche al sud nel mezzogiorno chissà come faranno in Campania dove le persone non vogliono rispettare le regole dove gli ospedali sono a collasso e non sono organizzati a distanza di settimane vediamo, ovviamente non voglio fare scongiuri perché in questo caso parliamo di dati comunque vediamo una situazione tutto sommato sotto controllo nel mezzogiorno noi oggi andiamo in Campania per parlare di questo e di altro lo facciamo insieme al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli buongiorno, ben ritrovato buongiorno a voi buongiorno, allora gli stereotipi fanno parte purtroppo di tutte le culture il consigliere Borrelli, no? E ci si aspettava una bomba nucleare in Campania e nel resto del mezzogiorno com'è la situazione per l'emergenza Covid in Campania? in Campania? No in Campania, in Campania, consigliere è noto che il numero dei infetti e dei decessi è molto ma molto ma molto inferiore a quello della Lombardia e di altre regioni del centro nord, pur essendo la Campania la seconda regione come numero di abitanti in Italia questo secondo me è stato dovuto a una determinazione molto forte della regione nel attuare anche prima del governo tutta una serie di misure restrittive e dall'altra parte, nonostante noi abbiamo più o meno un decimo delle risorse perché la regione Campania è stata dieci anni fa commissariata sulle sprechi della sanità perché ci stanno delle norme approvate negli anni dai governi diciamo a trazione leghista che hanno fortemente penalizzato le regioni del sud ma abbiamo un decimo dei fondi che ha in gestione la sanità lombarda sostanzialmente gli ospedali e il sistema tra mille difficoltà perché non è che posso dire che siamo tranquilli e sereni noi siamo preoccupatissimi però sta reggendo e sta reggendo al punto tale che siamo diventati faccio un esempio il Cotugno un modello internazionale di come si gestisce anche la sicurezza del personale sanitario che con nostra grande sorpresa non è stata rilevata dai mass media nazionali che non so per quale motivo in prevalenza non tutti scelgono di ospitare solo e esclusivamente direttori di giornali e di testate del nord ma è stato rilevato da Sky International con battutine e risatine da parte di alcuni conduttori televisivi che poi si sono scusati che dicevano ma è incredibile ma è possibile mai che la campagna sia abbia questi ospedali che funzionano così bene e questo ha fatto pandano un secondo episodio cioè la costruzione a tempi record anche più veloce della Cina del centro Covid posizionato a fianco all'ospedale del mare Sì, tra l'altro abbiamo anche alcune foto della costruzione di questo centro Covid che è stato, voglio dire, stira e fiera di Milano perché altrimenti veramente non mi va di mettermi a fare questi paragoni ecco, vediamo le immagini è stato allestito tra l'altro Borrelli in tempi record Sì, guardate che si stanno in video come si chiama? Time release Time lapse con tutta la costruzione Con la costruzione si fa vedere la rapidità con cui è stato realizzato sia chiaro questo non è una corsa che è più bravo questa è una corsa che salva più vite umane questo centro, tra l'altro è un centro che noi speriamo di non usare cioè è realizzato nel momento in cui le previsioni che sono state fatte che per ora sono abbastanza positive per la campagna dovessero invece non risultare perfette e quindi ci possa essere un'impenata nuova di casi e a quel punto noi siamo preparati con 76 posti con respiratori in questo centro che nessun, come dire, come rilevato a livello internazionale solo e esclusivamente queste strutture prefabbricate possono essere realizzate e sistemate in pochi giorni non c'è possibilità di costruire o riammodernare nuovi ospedali per realizzare imprese di questo tipo No, quelle erano delle proposte che poi cavalcavano soprattutto la polemica politica di riaprire all'improvviso strutture magari anche fatiscenti ed abbandonate Allora, la metto così consigliere Borrelli che voto darebbe fin qui al governo per come ha gestito l'emergenza e che voto darebbe al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca che non volendo è diventata tra l'altro una star internazionale con la famosa frase sui lanciafiamme e le feste di Laura citata addirittura da Nomi Campbell suscitando grandi invidia immagino in tutti gli altri colleghi governatori ma ecco, questa gestione perché poi vediamo quotidianamente consigliere Borrelli che il governo fa delle decisioni le regioni ne prendono altre l'ultimo le librerie cioè chi non le apre chi è posticipato insomma, questi due livelli come li giudica governo e regione Campania consigliere Borrelli? Ma io credo che il governo si sia trovato in una situazione delicatissima tra l'altro alcune regioni incredibilmente cioè mi riferisco alla Lombardia che hanno risorse che sono sempre state come dire un fiore all'occhiello sono state incapaci per quanto mi riguarda soprattutto per motivi politici di gestire la situazione e altre regioni invece capaci di farlo date le condizioni date l'unicità di questa vicenda io mi sento di dire un 6,5 al governo centrale e un 9 a De Luca Ecco, ricordiamolo che Francesco Emilio Borrelli ha avuto anche spesso da ridire con Vincenzo De Luca quindi non è un voto di parte ecco, mettiamolo così Borrelli No, no, ma anzi noi abbiamo per esempio adesso io sono tra quelli che sta spingendo per riaprire le pizzerie nel senso di permettergli di fare le paninoteche per permettergli fare la sport e De Luca non è d'accordo però voglio dire la sua determinazione e la sua fermezza che è stata all'inizio fortemente contestata dal centrodestra che per esempio riteneva che si vesse applicare un modello Milano eravamo nel periodo in cui avevano fatto pure riapre Milano quelle cose lì con Salvini lo stessi esponenti del centro-sinistra alcuni esponenti del centro-sinistra che invocavano la riapertura immediata lui ebbe una posizione estremamente controcorrente che alla fine si è rivelata lungibilante e questa posizione voglio dire è stata basata molto sulla scienza cioè con una forte collaborazione tra il mondo medico il mondo scientifico e la regione Campania cosa che in alcune altre regioni mi sembra che non è avvenuta cioè si è fatta prevalere l'aspetto commerciale ed economico io credo che il problema principale della Lombardia non è che non ha un personale medico o uomini e donne di altissimo livello io credo semplicemente che sia prevalza un'idea che ha da sempre la Lega e Comunione e Liberazione che governano interrottamente da 25 anni quella regione cioè l'idea di fare soldi su tutto compresa la sanità ovviamente anche sulla sanità si possono fare soldi ma per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda il primo obiettivo della sanità è curare e salvare vite umane e credo che questa lezione ci debba insegnare anche questo lo debba insegnare soprattutto a un certo mondo politico lombardo ricordiamo secondo me lì la causa scatenante fu il famoso Atalanta-Valencia di Champions League il campionato era stato interrotto si giocò a Milano da Bergamo ovviamente arrivano tantissime persone e lì purtroppo magari il sindaco non sto qui a fare una critica ma magari il sindaco Sala avrebbe dovuto avere il coraggio di dire e di ordinare che quella partita non si poteva giocare poi soldi della Champions qualcuno ne avrebbe ne avrebbe fatto però ci stanno anche delle inchieste in questo momento di occultamento di notizie era un mese da quello che ho letto sui giornali era un mese che moriva tantissima gente per le cosiddette definite dalla sanità lombarda polmonite anomale se muoiono decine di persone con polmonite anomali anomale ti puoi il problema di che sta succedendo voglio dire da questo punto di vista se il virus si è steso in Italia è stato perché c'è stata una posizione assolutamente non corretta da parte di chi ha gestito almeno questo è il mio punto di vista poi sarà la magistratura se è stata fatta per superficialità per non conoscenza per ingenuità o perché c'erano interessi talmente grandi sotto che si è deciso di far prevalere una linea che poi ha portato alla morte di migliaia di persone non dimentichiamo che in Italia purtroppo più della metà dei decessi sono avvenuti in Lombardia io sono fraterno e amico dei Lombardi ho molti dubbi su come è stata gestita da una parte del mondo politico Lombardo invece è arrivata la ribalta delle cronae che se ne ha parlato molto non il modello Campania e quindi anche come si è affrontato al netto delle oggettive difficoltà infrastrutturali l'emergenza Covid il problema delle proteste in carcere Francesco Emilio Borrelli per chi non lo conoscesse è uno che si occupa molto di legalità una sua lotta proprio per strada nei confronti anche della piccola criminalità che è quella che poi genera anche diverso degrado nelle strade ci sono state molte proteste nelle carceri specialmente Poggio Reale lì se ne ha parlato tanto qual è oggi la situazione perché ho visto anche dai suoi profili social delle case circondariali praticamente rase al suolo almeno negli interni Francesco Emilio Borrelli sì quelle immagini sono immagini delle famose proteste di marzo io le metto perché sono stato oggetto proprio stamattina ho concordato una denuncia questa è avvenuta a Napoli queste sono i familiari delle persone in carcere le donne hanno organizzato una manifestazione che non è prevista ed è fuori legge e hanno tentato prima l'assalto al carcere e poi l'assalto al tribunale vorrei capire quale solidarietà possiamo esprimere nei confronti di persone che si comportano in questo modo dovrebbero raggiungere i loro cari nelle case circondariali e restarci però la domanda che noi ci poniamo è tutti questi delinquenti che loro vorrebbero far uscire nel momento che escono come vivono come potrebbero sopravvivere il rischio serio è che noi faremo uscire migliaia di criminali che metterebbero a ferro e fuoco le nostre città per aver detto queste cose in modo generico io sono stato oggetto di continue minacce anche gravissime queste sono però immagini repertorio delle proteste in Italia di inizio marzo quando tentarono facevano l'assalto alle carceri per tentare di uscire questi sono i risultati sono circa 20 milioni di euro di danni che ovviamente pagheremo noi come collettività perché non è che pagano i detenuti paghiamo sempre noi loro distruggono poi si lamentano che stanno in brutte condizioni dentro i carceri ma le carceri che casomai hanno sfasciato stesso loro io sono contro ogni forma di violenza all'interno e all'esterno delle carceri ma sono perché le pene vengano effettuate fino in fondo senza alcuna deroga soprattutto nei confronti di soggetti criminali che si macchiano di efferati delitti e efferate azioni incivili e mi preoccupa molto l'ondata criminale e il tentativo di far apparire i delinquenti come le vittime della società e i cittadini onesti e le vittime come i farabutti è una lettura che io respingo totalmente allora adesso parliamo veramente di cose belle di cose belle che forse ci faranno anche scendere una lacrimuccia perché chissà se potremo goderne quest'estate io ho visto delle foto e prego Matteo anche dalla regia di cominciare anche a farci vedere anche video di un mare Napoli Campania e dintorni che le Maldive arrossirebbero ecco questo dove è stata scattata questa Borrelli questa dovrebbe essere zona Castellammare sì Castellammare guardate che immagine signori miei allora cosa dice Borrelli che in questo periodo con meno traffico meno sversamenti eccetera questo è il risultato ora i maligni potrebbero pensare Borrelli vedete è quasi contento di quello che sta accadendo lungomare di Napoli lungomare di Napoli Borrelli c'è un modo per mantenere questo status del nostro ambiente dopo abbiamo un video stupendo con dei delfini che addirittura si sono affacciati nel golfo pur mantenendo in piedi l'economia ovviamente io non voglio essere fare il figlio dei fiori per carità però cercare un giusto bilanciamento e cosa dicono i campani e i napoletani soprattutto di questo mare che stanno riscoprendo seppur a distanza senza poterne beneficiare beh c'è una parte della popolazione che è assolutamente entusiasta e si combatterà con noi io voglio ricordare che il fiume Sarno è uno dei più inquinati in Europa e al mondo e oggi ha le acque limpide il che significa che questo ci fa capire che gli scarichi industriali e l'eccessiva antropizzazione questa è una vista da posillipo creano la distruzione del nostro pianeta allora la domanda che mi faccio è noi vogliamo vivere in un mare pulito in un ambiente pulito perché anche le nostre strade sono prevalentemente pulite perché la sporcizza questa è Ischia questa è Sant'Angelo è Ischia cioè guardate dal video si vede il fondo del mare dal video si vede il fondo del mare cioè da quant'è che non si vedeva una scena del genere Borea lei l'ha mai vista? ovviamente sto parlando sempre di paesaggi stupendi ma un mare così io non lo ricordo io non lo ricordo cioè è un mare che si è riconquistato con poco perché sono passati praticamente un mese e mezzo si è riconquistato il suo spazio ma come addirittura troviamo i polpi nei porti i polpi nei porti troviamo la flora e la fauna rigogliosa addirittura si stanno facendo nidi di api che i cittadini stanno difendendo in zone che prima erano altissimo inquinamento e smog il ritorno della natura è un elemento positivo certo non deve causare migliaia di morti questi sono i delfini questa l'ha fatta la guardia di finanza a dire la verità si stavano in partiamento e mi hanno mandato questo video bellissimo a largo di Nisida cioè sarebbe la zona di Bagnoli dove c'era prima una delle industrie più inquinate inquinanti in Italia e come vedete vicino alla barca è stato possibile riprendere un branco di un gruppo di delfini che nuotava insomma stiamo parlando di scene che 30 40 50 anni fa erano forse la normalità oggi sono viste dai cittadini dalle persone come una straordinaria ritorno della natura e io onestamente voglio un mondo e un territorio in cui la natura possa convivere in equilibrio con l'uomo esatto Borrelli perché adesso arrivo al punto arrivo al punto di questa di quest'ultima discussione che ha sottolineato una cosa importantissima è passato dall'inizio del lockdown generale oggi è un mese e mezzo neanche un mese e mezzo e dopo appena un mese e mezzo abbiamo queste scene è possibile cioè anche adesso rispondo a chi dice che immaginare un mondo più green sia così difficile e complicato in realtà mi sembra di capire Borrelli che bastino veramente poche accortezze per riprendere in mano degli spazi e riconsegnare allo stesso tempo degli spazi alla natura che pensavamo ormai persi basta veramente poco beh quello che noi diciamo certo comporta dei piccoli sacrifici personali in alcuni casi non come quelli che stiamo vivendo adesso ma ad esempio non gettare le carte a terra denunciare chi fa scarichi abusivi non gettare ad esempio liquidi come dire inquinanti nelle caditoie che servono per le acque bianche insomma tutte queste cose stiamo parlando dell'ABC porterebbero già un notevole miglioramento la seconda cosa noi dobbiamo imparare a rispettare la natura l'eccesso di attività antropiche sul nostro territorio crea la distruzione della natura stessa e poi la nostra morte perché parliamoci chiaramente la natura noi stiamo avendo l'emergenza del coronavirus ma se continuiamo così tra crolli distruzioni che causiamo stesso noi la reazione della natura potrebbe essere molto peggiore io quello che domanda a tutti ma preferiamo un mondo inquinato in cui ci sia l'abusivismo edilizio e la distruzione del territorio o queste scene rispetto a questo perdonatemi fatemi fare una piccola digressione io trovo inquietante che la Lega proponga per in questa situazione in cui dobbiamo aiutare milioni e milioni di italiani in difficoltà proponga come soluzione di infilarci all'interno un mel condono edilizio e casomai un condono fiscale una cosa è aiutare adesso e condonare situazioni legate all'emergenza altre cose è tentare di utilizzare in modo dal mio punto di vista criminale un Tana liberi tutti queste sì che sono azioni contro l'ambiente e d'altronde sappiamo che ad esempio Trump sta facendo esattamente la stessa linea cioè sta facendo tutta una serie di interventi sul coronavirus in cui l'ambiente viene messo all'ultimo posto e quindi c'è una scelta o scegliamo di vivere in equilibrio con la natura e vivere in un ambiente pulito e diciamoci la verità anche bello oppure scegliamo di inquinare ancora di più sono due scelte e due idee di vita e di pianeta e di territorio che saranno fortemente in contrapposizione tra di loro esatto prendiamo un po' spunto da questo periodo il telelavoro quindi meno spostamento meno inquinamento anche a livello di produzione magari più turni insomma rallentiamo un attimo e vediamo che veramente in pochissimo tempo abbiamo avuto dei risultati incredibili grazie a Francesco Emilio Borrelli per essere stato con noi così per i dei verdi della regione Campania grazie buona giornata grazie salutiamo Francesco Emilio Borrelli lo sentiamo spesso abbiamo visto nelle sue battaglie soprattutto contro i parcheggiatori abusivi ma ovviamente l'ambiente essendo anche appunto del partito dei verdi è una priorità e quelle immagini ci devono far riflettere perché ripeto è bastato un mese e mezzo durante il quale l'umanità ha rallentato i suoi ritmi per avere questi risultati magari ricordiamoci un po' per il futuro ecco qua un'altra immagine di Ischia voi ditemi se siete pronti a rinunciare a tutto questo grazie per essere stati con noi termina qui questa puntata di Respubblica ringrazio Mattato Massetti in regia un saluto da Mattato Rioli restate sempre su Radio Cusano TV Italia Radio Cusano TV Italia Autore dei sovrapposti